buongiorno buongiorno io sono del censimento comunale guarda che qua non c'è una lira qua mi si è rotto il trattore invita una lira ho capito va bene ma io chiedo solamente dov'è schiaccia sassi nicola schiaccia sassi nicola babà è morto e non ci sta è morto e come è morto perché è morto incidente schiacciato lo trattore e allora la signora sardella maria è morta è morta pure mamma è morta è morta è morta come quando è morta è morta è morta un par d'anni fa sempre questo cazzo di trattore schiacciato da un trattore quindi lei è schiaccia sassi agostino schiaccia sassi agostino è morto 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 anche lui e come è morto è morto sotto sto cazzo di trattore schiacciato sotto allora rimane solo lei angelo schiaccia sassi e cosa fa lei io sono fatto sempre quello sono sempre portato sto cazzo di trattore